Lingue Data Center è una società che è nata un paio di anni fa sulla base di un'esperienza maturata nel decennio precedente. Un'esperienza è una fede, una fede nell'architettura del web, dell'architettura dei dati condivisi, che ha portato a costituire una startup, una startup innovativa come si dice adesso, che si occupa di collegare dati e di fornire un supporto alle nuove tecnologie e di gestione delle informazioni. Il tema dei dati e del collegamento dei dati è molto importante soprattutto in questo periodo dove si comincia a parlare di intelligenza artificiale. I Lingue Data di fatto rappresentano la porzione del cervello di questa intelligenza artificiale dove vengono memorizzate e collegate tutte le informazioni. È evidente come è importante una sostenibilità dell'innovazione e una responsabilità dell'innovazione in questi ambiti perché mai come adesso i dati saranno analizzati non da persone ma da macchine. Per dar corpo a questo concetto di innovazione responsabile, Lingue Data Center ha deciso di finanziare tre nuove startup con tre ragazzi molto giovani ma molto promettenti, dei veri talenti che nascono dalla scuola superiore di Monticello Brianza, l'Istituto Greppi e proprio a Villa Greppi il 22 settembre presenteremo questa iniziativa per raccontare come sia possibile effettivamente un rapporto proficuo tra impresa e istituzione scolastica. Grazie a tutti!